Salve a tutti amici del centro meteo italiano. Piogge e temporali anche intensi sono attesi nelle prossime ore sull'Italia, specialmente sulle regioni settentrionali. Il tutto a causa del temporaneo indebolimento del campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo e l'inserimento del flusso nord-occidentale sul lato orientale dell'anticiclone stesso. Tipica configurazione sinottica, questa la quale determina effetti al suolo ben distinti sull'Italia, così come possiamo osservare sulla carta previsionale di mercoledì 14 giugno. Addensamenti nuvolosi a tratti compatti e acquazzoni diffusi al nord, specialmente su settori montani. Pio asciutto e clima caldo con punte fino a 36 gradi al centro-sud. Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più soggette ai temporali oltre a tutti i settori alpini e nella giornata di giovedì 15 giugno anche quelli appenninici. Condizioni meteo di tutt'altro stampo invece al sud e sulle due isole maggiori, dove farà sempre più caldo, specialmente in Sardegna e tra la Calandra e la Sicilia con punte fino a 38 gradi nei prossimi giorni, specie tra venerdì e sabato. Un saluto e al prossimo aggiornamento dal Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.